Capri Nervosi Capri Nervosi La biodiversità vegetale ricchissima della regione Campania Oggi vorrei presentare i primi risultati concreti di questo progetto e che sono dei formaggi spalmabili, caprino arricchiti con estratti di erbe vegetali spontanee e officinali della regione e in più dei formaggi tipici della regione cioè il cacio ricotta, anch'esso arricchito con estratti di queste piante Siamo al Salone del Gusto, è vero però ho tentato di portare qualcosa che non si assaggerà cioè dei cosmetici questi cosmetici sono ottenuti dal siero di scarto delle produzioni dei formaggi che abbiamo ottenuto concentrato sapientemente dall'Università di Fisciano Dipartimento di Farmacia e arricchito con estratti delle erbe delle piante della flora mediterranea ossia la lavanda e la ginestra